Il contributo che oggi abbiamo dato a questo congresso è cercare di capire come poi di fatto la fisicità dei luoghi e quindi gli spazi siano in grado di generare salute. Noi sappiamo che oggi l'uomo vive tantissimo tempo all'interno di ambienti confinati, ma soprattutto sappiamo che oltre il 56% della popolazione mondiale vive nelle aree urbane. Questo dato è un dato che è destinato ad aumentare, c'è una previsione delle Nazioni Unite che dice che nel 2050 oltre il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane. Quindi oggi sostanzialmente è una priorità quello di andare ad indagare come le città possano diventare occasione di salute attraverso cosa? Attraverso la rigenerazione urbana, attraverso la riqualificazione anche dello spazio, ma attraverso anche nuovi modelli di pianificazione e di programmazione delle città. Oggi occorrono strumenti innovativi, oggi occorre un nuovo approccio anche nel campo dell'architettura e della città. Da un approccio esclusivamente di tipo qualitativo, oggi occorre un approccio di tipo anche quantitativo. La città quindi promotore di salute dove? Promotore di salute per esempio attraverso anche la promozione dell'attività fisica e quindi questo vuol dire che le città devono essere però preparate, predisposte e messe in sicurezza per aumentare la capacità di produzione e di propensione all'attività fisica. Oggi le città hanno una forte propensione all'attività fisica, occorre però ridisegnarle, occorre appunto ripianificare. Tenete conto che oggi è stimato che oltre il 50% degli spostamenti che avvengono all'interno della città sono inferiori ai 5 km. Questi 5 km potrebbero essere svolti da parte della popolazione attraverso appunto l'attività fisica e quindi attraverso quella che viene chiamata la mobilità lenta, quindi quella pedonale e quella ciclopedonale. Che cosa ci dice oggi, che cosa sappiamo oggi sulle città? Che un grosso tema è quello per esempio di recupero delle periferie. Oggi c'è un piano nazionale delle periferie su cui ci si sta lavorando. Ci si è accorto che uno dei temi diciamo più critici delle periferie è la monofunzione mentre noi sappiamo che l'urban health ci porta sempre più a far che cosa? Ad aumentare la densità delle città perché le città, i servizi delle città si programmano in base alla densità ma sappiamo anche che oggi la mixite funzionale è un tema importantissimo. Quindi le nostre periferie oggi hanno bisogno di accogliere nuove funzioni, funzioni forti che siano in grado di rigenerare appunto il tessuto come ad esempio i luoghi per lo sport. I luoghi per lo sport sono luoghi non solo diciamo che vanno nella direzione del benessere fisico ma vanno anche nella direzione che l'OMS tanto va ad auspicare che è quello anche di un benessere psicologico e di un benessere sociale. I luoghi per lo sport oggi possono diventare dei luoghi di coesione sociali. Abbiamo tanti esempi internazionali di playground dove all'attività fisica si diciamo affianca anche una capacità di integrazione, di confronto per la popolazione con capacità socio-economiche più basse. C'è uno studio che dimostra che chi ha capacità economiche più elevata ha una speranza di vita più elevata e chi ha capacità economiche più basse ha una speranza di vita appunto più basse. Quindi questo è un dato su cui a mio avviso bisogna lavorare molto, lavorare molto appunto anche attraverso il ridisegno e attraverso l'introduzione di nuovi strumenti delle città.